Come annunciato dal Premier Mario Draghi è iniziato questa mattina il percorso di pianificazione degli investimenti finanziari col fondo complementare del PNRR riservati alle aree terremotate. Stamattina si è tenuta la cabina di regia, la prima in via telematica, 1,78 miliardi su due filoni di interventi, un miliardo per avere borghi e città più sicuri e connessi, 700 milioni saranno dedicati allo sviluppo e alla ripresa sociale ed economica. Nella seconda misura è prevista la realizzazione del centro di formazione professionale per la pubblica amministrazione. Il centro che nascerà all'Aquila sarà con ogni probabilità l'emanazione della scuola nazionale che ha sedi a Roma e Caserta e che forma dirigenti e funzionari statali. La scuola aquilana sarà tecnica non necessariamente legata a terremoti e calamità. Alla cabina di regia presenta il commissario per il Sisma 2016 Giovanni Legnini ma anche la struttura di missione, Casa Italia, gli uffici speciali e rappresentanti del cratere del Sisma 2009, oltre al presidente della regione Marco Marsilio, presente pure il coordinatore dei sindaci del cratere Gianni Anastasio. Si sono gettati le basi stamattina insomma per far partire il progetto che essendo legato al PNRR avrà tempi stretti. Lo stesso Draghi ha più volte ribadito che accelerare sulla ricostruzione è un obbligo morale. Il fondo complementare è un'opportunità straordinaria per i territori. Il Sisma del 2009 ad esempio ha causato una perdita di 200 milioni di euro l'anno, l'11% circa del valore aggiunto complessivo dell'area a cui si sono aggiunti danni della pandemia. Ma nonostante questo il tessuto sociale produttivo dell'Abruzzo è rimasto vivo nonostante tragedie e difficoltà. Per questo a livello nazionale va sostenuto. Il pacchetto riguarda i terremoti del 2009, 2016 e 2017 e gli investimenti, come sottolineato anche nella prima cabina di regia, sono un impegno concreto per la ripartenza. Il modello di governance costruito per questi nuovi investimenti punta innanzitutto sulla semplificazione e sullo stretto coordinamento delle amministrazioni locali e territoriali. La data di oggi fa coincidere la prima cabina di regia con il termine ultimo fissato da USRA e comune intanto per la presentazione delle schede parametriche parte 1. Per i ritardatari potrebbero scattare i commissariamenti ma secondo il titolare dell'ufficio, salvo Provenzano, non ce ne sarà bisogno perché dal numero esiguo di schede arrivate in settimana si capisce che sono ormai finite. Per le parti 2 invece in istruttoria ce ne sono circa 150, all'appello ne mancano 600.